Benvenuti tutti carissimi amici, bentornati a un nuovo grande appuntamento dedicato al mondo del ballo e della musica e vi ho portato un carissimo amico Omar Ravaioli, ciao! Ciao ciao a tutti! Innanzitutto partiamo col fatto, voi lo vedete sempre, non è soltanto un ballerino professionista ma è uno zin di Zumba già in divisa perché tu vieni da una lezione di Zumba insomma Yes! Quindi fisico, atletico, prestante, diventeremo tutti così, io ve lo giuro che ce la farò datemi qualche anno di tempo com'è una lezione di Zumba? Perché loro vedono tutti i filmati che io metto su e li presento sempre molto calorosamente dicendo che sono faticosissimi, però sono anche molto divertenti com'è una lezione di Zumba? Allora una lezione di Zumba è faticosa, deve essere faticosa oltre che comunque deve essere un momento divertente della nostra giornata soprattutto per chi prende quell'ora per sé, per dedicarsi un po' di tempo a se stessa per comunque cercare di mantenersi in forma, fare un po' di attività fisica eccetera però per prendersi appunto del tempo per sé ed è faticosa perché noi vediamo un ballo ogni tanto ma generalmente in 50 minuti, un'ora se ne fanno 13 buoni buoni con una sezione di riscaldamento iniziale però come funziona? Che tu ogni appuntamento insegni una coreografia nuova e la ripeti, la ripeti finché non l'imparano come fanno ad imparare 13 coreografie diverse? Ah no, niente, il metodo va un po' contro quello che sono abituato io essendo comunque insegnante che deve insegnare bene i passi eccetera lì niente, lì vai a random perché comunque la cosa principale è muoversi quindi stare un'ora su una coreografia diventa un po' statico e noioso con il fatto che per un tot di mesi le ripeti poi piano piano entrano dentro il nostro cervello e comunque sono studiate per essere ricordabili comunque è un blocco di passi che viene comunque ripetuto, un ritornello c'è una costruzione musicale comunque quindi dopo 3-4 volte pian piano inizia a venire in mente tutto Quindi alla fine, al di là che comunque vi divertite e mi sottolineava che non è necessario che le sappiate già tutte a memoria perché le prendete, non le acquisite Sì, a volte neanche io le sottolineo, no scherzo io per tempo la sera prima me le preparo Infatti quello che dicevo io per tempo la sera prima ho troppe cose da dirti allora comincio quindi volevo dirvi, non vi preoccupate se non le sapete partite, andate regolarmente quant'è? Due giorni a settimana? Sì, ci sono tante possibilità le palestre o comunque le scuole danno più possibilità una può andare le volte che può una, due, io anche chi viene giù da me faccio dei turni mattina e sera si fa mattina e sera Ah, per cui c'è possibilità di e quindi vi tonificate, vi ovviamente tenete in forma vi divertite, vi scaricate la tensione ma la cosa bella che mi diceva lui aiutate la memoria perché poi sono coreografie da ricordare Quello è sicuro, è una situazione in cui devi mettere in atto anche altri sistemi e sicuramente aiuta anche a mantenere giovane il cervello Il cervello. Allora, continuiamo a parlare di Zumba con Omar Ravaioli, ritmo danza non soltanto ballerino professorista ne parleremo poi continuiamo a parlare di Zumba tu sei il coreografo delle tue musiche perché lo so, ci tieni moltissimo anche perché ti viene naturale la difficoltà allora, qual è per te? Non creare dei passi nuovi ma cercare le canzoni che siano adeguate? Sì, sicuramente cercare le canzoni per il semplice fatto che non correre il rischio di avere delle canzoni tutte molto simili comunque si usano tanto le canzoni latino-americane latino-americane, salse, baciate, merenghe adesso c'è tanto il reggaeton e quant'altro quindi la mia premura è quella di non avere una playlist simile quindi io vorrei passare da una musica all'altra un genere all'altro ho fatto il tango sulla musica di Zumba adesso abbiamo un twist poi sì, ho provato così nella mia mente a dire vediamo se c'è oltre quello che sappiamo ormai vediamo tutti perché la musica ormai viene tutta da lì tango-Zumba e c'era tipo la comparsita versione reggaeton e quindi si è prestata una tua coreografia? basta avere un po' anche la fantasia la fantasia quindi tutti i balli si possono realizzare però ragazzi attenzione è perché poi abbiamo alle spalle un ballerino professionista che sa anche i passi perché se no sapendo soltanto muoversi a ritmo di Zumba se non ha le basi dei balli classici e questo mi porta a... un'altra domanda prima le tue ragazze come apprendono? sono contente che tu gli proponi proponi loro dei balli nuovi di Zumba? si lamentano perché vorrebbero ripassare sempre quelli vecchi così non fanno sforzo mnemonico? direi che ci sia... che ci troviamo davanti a una 50 e un 50 perché ci sono quelle che magari hanno bisogno di più tempo oppure dicono dai fammi vedere quel passo io glielo faccio vedere spesso nelle coreografie nuove almeno il ritornello le preparo un attimo e poi ci sono quelle che invece magari dopo un po' dicono dai faccene altri nuovi faccene altri nuovi però non è che sono il fornaio certo, certo non è così sempre sono quelle volte che magari in una sera ne faccio quattro e altre volte come lo scrittore, il pittore eccetera al blocco cioè bisogna andare anche un po' con la pancia è vero, è vero, è vero sapevo anche che ci sono molte scuole scuole di ballo dico per realizzare i balli di gruppo sociali quindi non so se è la medesima cosa con la Zumba che attendevano l'estate il parto di questi grandi artisti che realizzano il tormentone dell'estate diciamo così quello al quale andiamo dietro tutti quindi ci sono proprio delle scuole che aspettano i famosi Luis Fonsi, Alvaro Soler e tanti altri artisti per vedere quale sarà la musica dell'estate anche in Zumba può capitare allora sicuramente io vado controcorrente a me piace andare controcorrente nel senso magari una la metto però c'è sempre il discorso che il tormentone dopo un po' stufa quindi se oltre che la senti per radio oltre che la senti quando vai a ballare fuori oltre che la senti la fai anche a Zumba le prime volte la colgono con passione dopo un po' dicono ti prego allora evito magari le ripresento a settembre alcune cioè io vado un po' come e vado al contrario non le porto subito verso la fine dell'anno quindi verso settembre quando riapri i corsi perché sono musiche che hanno già sentito e quindi diventa un attimino una suonanza migliore conosciuta ecco un mesetto dopo di che quelle le cambio già con le nuove ecco vi faccio un po' così vado un po' contro tutti ma io adesso sicuramente amici voi da casa avrete la stessa la stessa domanda mi pongo anch'io ma come fai a ricordartele tutte? scherzo scherzo no lui sarà un eterno giovanotto e ha sempre 18 anni per me infatti quando mi dice realmente ma tizzi io ne ho rimango un po' basita ci metto 10 minuti mi riprendo si sono vicino agli anta si non è vero assolutamente Omar non sarà mai vicino agli anta ma ti capita mai di dimenticartele? beh ogni tanto può succedere nel senso che stai pensando un'altra cosa inerente sempre al lavoro hai l'occhio da una parte può succedere cioè siamo umani può succedere amen si va avanti cioè l'importante è come sempre dico non farsi perdere ho sbagliato vai un urlo ma se adesso io ti facessi tirare fuori una musica magari di due anni fa tu ti ricordi come la facevi o ne crei in automa beh molte si cioè fuori di farle adesso partiamo dal presupposto che come dicevi prima sono impostato a fare altre danze quindi lì la ripetizione la memoria quindi col fatto che vengono da me bene o male mi ricordo mi ricordo ancora cambiando settore le prime coreografie che ballavo con Serena dieci anni fa alcuni passaggi ti rimangono ma tu pensa ragazzi o quando ero piccolino e mi ricordo sempre facevamo nella mia vecchia scuola tantissimi anni fa avrei avuto dodici anni c'era Funky il Gallo me lo ricordo ancora ma tu pensa ragazzi bisogna poi magari quello che ho mangiato ieri non me lo ricordo allora vedi ecco mi tranquillizzi perché dicevo ragazzi devo cominciare a ballare anch'io perché io vi dico sempre andate a ballare che fa bene però effettivamente io ho dei problemi di memoria alle volte che dico oddio cosa ho fatto però se mi dici ciò mi tranquillizzi magari siamo impeccabili sul nostro settore ma dall'altra parte professionalmente perdiamo perché i geni posso dire così i geni devono sfruttare insomma l'energia dove è meglio quotata allora adesso invece vorrei parlare con Omar Ravaioli qui con noi non più soltanto di Zumba ma parliamo invece di quello che è la tua professione ballerino professionista nato da piccolino ci raccontavi l'altra volta questa gran passione che poi ti ha spinto a studiare ad arrivare a delle vette anche incredibili io ho avuto l'onore di essere presente quando hanno vinto è stata una cosa meravigliosa è stato però quello che dico sempre loro quando gli propongo i vostri video che sono bellissimi perché siete stupendi no? grazie dal trucco al parrucco al vestito e mi spiegava che è tutto valutato dai giudici nelle gare non soltanto la bravura atletica e ballerina danzereccia ma proprio anche l'acconciatura il vestito tutto sì cioè non è quella cosa predominante però fa parte dell'insieme del costume danze latinoamericano danze standard parliamo di quello l'ottica vuole che siamo belli cioè belli non intesi come faccio o quant'altro però un bel trucco un bel parrucco che visivamente sia pulito e impeccabile sì quindi se tu vedi una ballerina che magari è struccata o è bianca o è spettinata ci fai subito all'occhio pensate che preparazione quindi non soltanto come vi dico sempre io tanta concentrazione tanta negazione allenamento eccetera ma anche lo studio di quello che è il look che è fondamentale che poi una volta ho avuto l'opportunità di andare a ritmo danza ve lo insegnate ve lo tramandate maestre con ballerine perché erano proprio lì davanti al vetro con tutti i trucchi per evidenziare un occhio piuttosto che un altro sì sì dopo diventa diventa una scala sociale nel senso quello che il mio maestro Simone insegna a me o decideva su di me io faccio così con i miei allievi e le mie coppie perché comunque cioè anche lì non è il nostro maestro è la nostra maestra che ci dice tagliati i capelli così mettiti questo fatti quest'altro prova questo look fondamentalmente siamo nelle mani loro e i miei allievi sono nelle mie mani quindi poveracci poveracci loro ma come fanno ad avere questa preparazione nel riuscire a capire che in quel momento tu ti devi vestire così o devi avere i capelli in quel modo è la loro esperienza forse sì come io vedo adesso essendo anche io anche dall'altra parte avendo i miei bimbi che vanno in gara eccetera magari li vedo dico aspetta gli ho fatto fare questa pettinatura ma proviamone un'altra poi devi avere anche un po' l'occhio io come Simone ci mettiamo lì ad esempio le mie bimbe le pettino io cerco di la serena l'ho sempre pettinata io quindi di conseguenza poi dopo provi è un'abitudine è un'abitudine una cosa che mi premeva chiederti era questa qui ho visto e ho notato che molte volte il trucco viene realizzato appositamente perché nel ballo avete delle espressioni e quindi le valorizza se avete notato nei video che vi faccio vedere non sono non hanno delle espressioni patinate come i ballerini normali che fanno quel sorrisetto fisso dall'inizio alla fine hanno proprio delle espressioni con delle molto marcate anche il saluto lo strizzare l'occhio quindi sono tutte preparazioni che richiedono tempo? si adesso preparazioni che richiedono tempo più a livello psicologico nel senso che comunque quello che facciamo nasce molto da quello che sentiamo come abbiamo sempre parlato ogni ballo ha un po' un carattere quindi devi cercare di tirarlo fuori senza far sì che sembri finto perché tutte quelle cose così sono finte devi sempre usare la pancia la pancia quindi una volta che sai un po' la rumba sappiamo che è il ballo dell'amore quindi non è che stai c'è c'è uno sguardo diverso c'è un catturare diverso un muovere diverso un abbraccio che si muove diversamente ogni balla al suo sono cose meravigliose io lo dico sempre vi invito ad andare a queste competizioni perché peraltro una cosa molto bella che mi dicevi dietro le quinte sia per il trofeo low cost e la star cup racconta tu sono gratuite si sono eventi estremamente per il pubblico gratuite dove si ha la possibilità di nelle low cost che adesso cambieranno nome vedere le coppie emergenti quindi è dedicata proprio al settore che sta venendo su i bambini anche gli adulti perché ci sono gli over 50 come abbiamo detto eccetera che si approcciano alla danza e poi ci sono le star cup che invece sono competizioni internazionali dove si vedono ballare le migliori coppie al mondo perché comunque partecipano i campioni del mondo i finalisti ai mondiali quindi si vede realmente che cos'è la danza sportiva pagando zero e davvero si entra in un mondo io vi consiglio di passare un pomeriggio lì perché è una cosa meravigliosa uscite con le pagliuste negli occhi anche se ripeto ho avuto l'opportunità di essere dietro le quinte poi loro dietro la tensione la vivono forse la loro concentrazione è più dovuta a cercare di smorzare l'ansia che a ripassare i passi perché ormai i passi vengono meccanicamente c'è sempre qualcosa da sistemare magari proviamo quel passaggio non me lo sento perché comunque sbagliano le macchine quindi furiati gli esseri umani però sicuramente il fatto di gestire l'adrenalina e non entrare in pista così o tinki non aiuta a una buona performance quindi c'è la concentrazione per rilassarsi intanto ti fai tutte le tue coreografie a mente provi due passaggi ci scaldiamo molto e poi dopo si entra in pista allora io ero presente ad un evento molto bello al quale lui e Serena Monari che saluto la sua ballerina storica e fecero una bellissima performance lei era vestita di rosso su una canzone molto bella e forse la tensione forse il momento l'attimo non controllato io ero lì vicino a loro ho sentito era il momento in cui doveva darti uno schiaffo lì era vissuto cioè lì era proprio vissuto sono rimasta basita perché a Serena è scappato uno schiaffo proprio e lui in perterrito è andato avanti con sta guancia rossa una performance stupenda ma io che ero vicina ho sentito la botta il ciocco proprio sì 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 era uno dei primi eventi che abbiamo fatto insieme che abbiamo prestato il nostro show lì lei ha sentito proprio bene l'emozione di quel momento era una crocografia di Mina quando doveva far finta di darmi uno schiaffo proprio l'ha vissuta l'ha reso reale ecco non ti ha chiesto scusa dopo alla fine della performance è normale è normale anche perché me ne fa gomitate io gli pesto i piedi ma anche perché fortunatamente hanno dei vestiti davvero molto castigati molto stretti quindi è fatica che ti arrivi qualcosa negli occhi però io vedo alle volte che ci sono dei costumi con delle perline di solito se hanno le codi o le trecce i capelli arrivano regolarmente o la gomitata può arrivare negli occhi nel naso nei denti ecco perché gli uomini sono sempre molto attenti quando fanno queste discipline è vero? sì sì è bello ma ha le sue pericolosità adesso nello scherzo certo succede cioè non è volontario quindi ci si chiede scusa ma in certe situazioni non c'è neanche bisogno insomma perché vabbè con Omar Ravaioli qui con noi volevo chiedere invece un'altra cosa che parlando dialogando dietro le quinte comunque è uscita tu sei bravissima a parte la zumba i balli di gruppo e tutto ma tu sei specializzato nelle danze latinoamericane sì e invece mi raccontavi che se ti chiedo di fare un waltzer un foxtrot quindi le danze standard tu sei in grado di farle sì io le so fare per il mio livello per quanto riguarda le danze standard stiamo studiando perché comunque bisogna essere formati su tante cose il ritmo danza a livello agonistico nasce sui due settori danze latinoamericane standard avendo fortuna che Simone e Michela sono stati dieci ballisti quindi io voglio insegnare queste miei stiamo studiando ma abbiamo le strutture adatte che ci permettono questo e diamo anche degli esami su questi io sono giudice sia di danze standard che latinoamericane quindi tu sei anche in grado di selezionare una coppia che fa danze standard scusami e vedere dove può sbagliare dove non mette ovviamente questi sono gradini che si fanno pian piano per le prime basi sì posso giudicare posso valutare vedete non si finisce mai di studiare uno pensa di essere arrivato eppure malgrado tutte le vittorie il grande palmarès che hanno raggiunto loro sono professori giustamente eppure gare giusto ogni domenica una gara sì 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 noi per il momento ancora siamo a pieno regime come dicevo l'altra volta quindi abbiamo le nostre gare mensili i nostri spostamenti stage come dicevi prima io penso che smettere di studiare sia come ammazzarci dentro nel senso che comunque se tu hai dei progetti non puoi smettere di studiare perché rimarrai sempre un passo indietro agli altri e poi ti mantieni vivo perché sicuramente noi non potremmo gareggiare essere prestanti per tutta la vita magari ma non è possibile se tu vuoi lasciare un qualcosa di tuo e comunque intraprendere un'altra carriera che è quello dell'insegnante quello del formatore di coppie eccetera eccetera giudice devi studiare devi studiare assolutamente come l'esempio che faccio sempre il chirurgo non si può fermare a quando ha preso la laurea che il prossimo intervento te lo fa bisogna stare è un mondo che va veloce le mode cambiano passano aggiungono si aggiungono cose nuove metodi nuovi e continua evoluzione quindi se stai fermo hai già perso hai già perso allora abbiamo parlato di Omar Ravaioli come Zin di Zumba abbiamo parlato di Omar Ravaioli come ballerino professionista e adesso parliamo della parte ludica diciamo così la chiamo ludica perché è stato un progetto che io ho sposato a piene mani perché l'ho visto divertente da condividere con degli amici in realtà è stato realizzato da bravissimi professionisti però io l'ho presa divertendomi dunque io ringrazio il maestro Paolo Domeniconi che una volta si è presentato con una simpatica canzoncina e mi ha detto ma potrebbe diventare un tormentone dell'estate ti piacerebbe metterci le parole? a me è piaciuta ha preso subito io gli ho messo le parole e ovviamente siccome io non so di ballo ho detto a chi mi rivolgo per un meraviglioso ballo di gruppo a Omar Ravaioli ed è nata Palmas ischierda derecha ischierda Palmas allora è stato un progetto bellissimo sposato in coralità mi è piaciuto proprio per quello tu sei stato bravissimo perché hai realizzato dei passi estremamente semplici le tue ragazze sono state stupende le ragazze di Zumba con Omar che ringrazio tutte perché l'hanno comunque anche loro l'hanno sposato in pieno il progetto in pieno e poi abbiamo avuto un bellissimo video che l'hai realizzato da un grande Davide Legni un grande regista quindi direi che è stata tutta la ciliegina sulla torta molto bello allora quello che ti volevo chiedere io era il gossip di questa di questo evento perché ovviamente loro vedono il video finito ma in realtà quando io l'ho chiamato perché Omar ha un po' non so se lo vedete ma praticamente l'aureola perché ogni tanto mi viene in mente qualcosa e chiamo Omar e lui mi risponde la colpa è la sua perché non dovrebbe rispondermi beh è un consiglio che mi stai dando è un consiglio che ti sto dando e quindi quando gli dissi buttami giù questi due passettini tu dov'eri? io ero in Bulgaria a fare una gara quindi ci ha messi lì in camera la Serena faceva il video e io ti 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 giusto perché dovevamo un attimino perché i tempi sono sempre molto larghi quindi bisogna prendersela con calma per fare tutto per fare tutto certo allora collaboravamo così lei mi mandava allora la canzone è così no 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 e io intanto su quello no 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 ed è nata ed è stata molto carina peraltro io ringrazierò sempre a vita a te Andrea Zizza devo dire che lui l'ha sposata e tutte le altre ragazze di ritmo danza perché l'hanno presa come ballo gioco diciamo così da insegnare ai bambini sì è una canzone che secondo me si sposa molto noi adesso l'abbiamo fatto ridendo e scherzando per i grandi eccetera ma si sposava molto per i bambini perché i bambini cioè la musica era frizzante le parole erano comunque semplici dicevano delle cose che potevano ripetere anche loro lo facevano in due e i bambini si divertivano quindi l'abbiamo portato nelle scuole l'abbiamo portato nei saggi io addirittura al mio corso lo feci fare a un saggio e tuttora se la metti si ricordano ma tutti appena poi adesso per quella canzone ho un altro piano e quindi è una canzone doc mi è piaciuto moltissimo perché lui mi ha mandato dei gran mini video e non posso proporveli perché per la legge della priva sono tutti minorenni e mi ricordo che era una festa di compleanno di una bimba piccolina che con tutti gli amichetti lì si è girata verso la mamma e gli ha chiesto mi metti su palma si avrà avuto 3-4 anni e per me è stata una cosa meravigliosa peraltro mi hanno detto che era una cosa molto utile perché essendo una seconda lingua si giocavi un po' semplici hanno imparato anche due parole insomma in spagnolo quindi è stata una bellissima avventura Palmas allora sempre qui con il nostro amico Marravaioli bellissima Palmas è vero l'abbiamo ballata qua di dietro io come al solito non mi ricordavo nulla fortuna che c'era lui a dirmi i comandi ed erano 4 ve lo voglio dire guarda lei si ricorda era il contrario era il contrario allora mi viene da dire con tutte queste gare che fai perché tu non sei non fai le gare solo in Italia anzi forse la maggior parte sono all'estero mix sì avrai viaggiato il mondo avrai visto paesi città essere ballerini è bello perché vedi il mondo essere ballerini è bello secondo me ti dà una percezione anche mentale di se ci fosse l'angolo più grande di 360 gradi oserei perché vedi tante realtà vivi tante emozioni vivi tanti problemi perché il nostro mondo è un mondo che ti dà delle problematiche da affrontare capito però sì ti dà anche la possibilità di viaggiare e vedere non so il palazzetto in Spagna il palazzetto a Parigi il palazzetto in Turchia beh cosa vedi solo di vedi solo ma no vi chiedo scusa vedi solo dei palazzetti sì il tempo per girare è poco il tempo per girare è poco quindi beh gli hotel perché fai il tragitto palazzetto hotel e aeroporti e aeroporto sì è meraviglioso quindi l'unica però ci sono degli aeroporti molto belli in giro per l'Europa ve li consiglio quindi Omar Ravaioli vi farà il tour degli aeroporti europei però 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 quando tu sei stato in Cina per i mondiali nella squadra azzurra che hai i brividi ancora che eri praticamente rappresentante dell'Italia un po' il giro lì a Kangoo lì l'hai fatta no? sì fai conto mezza giornata l'ho utilizzata per fare un giretto nel paesino quindi hai visto che non c'era niente però premessa è stato un viaggio relativamente lungo per distanza ma breve per durata perché noi siamo partiti il giovedì e il lunedì si è rientrati quindi considerando il viaggio noi siamo arrivati il venerdì sabato domenica e siamo ripartiti ma scusa quando arrivi così distrutto da un viaggio così lungo come fai ad avere la concentrazione per poi fare una performance da andare ai mondiali cioè non erano i giochi della gioventù ma lo sai che io non ho sentito né jet lag né niente io con un filo di gas io sono stato benissimo io pensavo siamo partiti di pomeriggio quindi siamo andati verso la notte abbiamo dormito in aereo alla mattina siamo arrivati quindi per me era mattina al ritorno siamo partiti di mattina abbiamo fatto tutto il cambio quello che vuoi ma siamo arrivati in Italia che era sera ti sei andato a letto a posto quindi per me con un filo di gas Serena è ancora lì che si sta riprendendo conoscendo lei lei è meno prestante per queste cose un caro saluto a Serena un giorno o l'altro riusciremo a intervistare anche te Omar se volessero seguirti ricordaci tutti i tuoi social allora innanzitutto c'è il sito principale della scuola dove ci sono tutte le sedi in giro per l'Emilia Romagna che è www.ritmodanza.net e troverete quello che noi facciamo sia da me ma in giro per tutta l'Emilia metti che ci sia qualcuno che ti segue diciamo vè quasi quasi c'è una sede vicino a casa mia e per quanto riguarda me personalmente c'è il mio profilo instagram Omar Ravaioli molto semplice uguale per quanto riguarda facebook e poi invece per chi vuole seguire me e Serena abbiamo la nostra pagina facebook che è Omar Ravaioli Serena Morali che potrete aggiungerci e vedere quello che noi facciamo che è davvero molto bello seguitelo perché è davvero interessantissimo Omar è stato un piacere condividere questa puntata con te è stato un piacere anche per me ti auguro una marea di cose meravigliose ma tanto noi ci vedremo per Enerjoy il ballo che unisce di quest'anno perché lui non manca caspita sono un po' preoccupata di solito arriva sempre con la quest'anno prima che meraviglia allora presto sveleremo i balli che ci propongono le scuole di quest'anno grazie davvero grazie a te grazie a tutti voi un buon proseguimento di settimana ci sentiamo al prossimo appuntamento e vi salutiamo come sempre ricordandovi che per noi la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione ciao